La situazione è molto difficile, ci preoccupa molto, ma stiamo mettendo in campo tutte le nostre forze, stiamo cercando l'appoggio di tutte le istituzioni, genovesi, romani, il governo anche. E appunto adesso oggi stiamo facendo un giro in comune per ribadire l'accordo che era stato firmato da Esaote, dal comune, quindi Esaote Azienda e dai sindacati, un accordo che prevedeva il trasferimento Arzelli in toto con tutte le funzioni per avere il cambio del PUC a Sestri. Oggi stavano approntando un documento che ribadisce questo fatto, ci stiamo aggiornando, sono andati in delegazione, dopo di questo andremo in regione per sollecitare anche la regione che ultimamente non abbiamo sentito molto spesso, in modo che facciano anche la loro parte perché su Genova, sulla Liguria non si può perdere un'azienda come Esaote, sarebbe un dramma. Per voi la situazione è difficilissima perché ovviamente il destino di Esaote è strettamente legato al vostro. Sì, perché praticamente il nostro fatturato, il 90% è basato su Esaote, ci manca di Esaote e anche il nostro destino è molto molto brutto. Sì, perché praticamente il nostro fatturato, 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 il nostro fatturato Grazie a tutti.